Il progetto Mappa è una delle manti dietro il progetto Mappa, che si articola in due momenti fondamentali. Uno è il MOD, l'archivio open data, in cui stanno cercando di raccogliere tutti i dati in formato aperto relativi a scavi in vari punti del territorio italiano e non. E poi l'algoritmo Mappa, che serve per calcolare la predittività dei depositi archeologici. Quindi lascio la parola a Gabriele, che sicuramente è più bravo di me a spiegare questo. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Per prima cosa, se volete, dal sito di Mappa, questo qua che vedete, potete scaricare il PowerPoint che ho fatto. E così via via magari ci sono dei link a varie cose da vedere. Per farlo basta andare dove c'è scritto prossimi eventi, appunto, open data in action. E scarica la presentazione, apre la presentazione, poi si può scaricare il PDF della presentazione con tutti i link attivi. Così, se volete seguire le mie divagazioni qua e là, potete farlo tranquillamente. Se no, se volete, potete copiare, ma è più noioso. Potete copiare il link che ho scritto qua sotto, ma insomma, nell'altro modo mi sa che è più semplice. Allora, qualche metadato su di me per capire quello di cui vi parlerò e chi ve lo dirà, insomma, in modo che sia chiaro qual è il mio background, qual è l'ottica con cui vi racconterò le cose. Io sono un archeologo e i miei studi sono iniziati con le pratiche del metodo, della metodologia archeologica e poi sono approdato all'archeologia medievale e post-medievale. Soprattutto quest'ultimo è un po' un settore di nicchia nell'archeologia italiana, che è molto più legata all'archeologia antica. Sono un libero professionista e sono assegnista di ricerca, quindi insomma cerco un po' di sbarcare il lunario, un po' come tutti, però mi sono occupato, a partire appunto dalla mia attività professionale, molto di archeologia urbana e archeologia preventiva. Questo, a partire dalla mia tesi di laurea, mi ha portato all'uso del GIS e poi appunto negli ultimi cinque anni, nel dovermi imbattere, insomma, con i problemi legati alla mia tesi di dottorato, mi sono occupato di Open Data. Perché ho iniziato a occuparmi di Open Data? In una maniera, diciamo, molto egoistica, se volete, perché come molti che si apprestano a fare una tesi in una disciplina umanistica, è difficile molto spesso reperire dei dati che non siano già interpretati. A me non interessava utilizzare le interpretazioni fatte da altri, volevo cercare di fare delle interpretazioni mie, giusto o sbagliate che fossero, però insomma delle interpretazioni che partissero dal dato grezzo e quindi avevo bisogno di questi dati. All'epoca l'unico modo era andare negli archivi della sovrintendenza a scartabellare, cercare tutte le cose, cercare di rinformatizzarsele in modo che poi da poterci fare sopra delle analisi. Questo lavoro, che è stato molto oneroso, chiaramente è stato alla base, insieme a una tesi di laurea di Francesca Nichini, è stata la base di quello che poi è diventato il progetto Mappa, cioè tutti questi materiali che avevamo digitalizzati dovevano essere sfruttati e comunque offerti al pubblico dominio in modo tale che potessero essere di nuovo utili. Non vi aspettate dal mio racconto cose molto tecniche o informatiche, perché io come background fondamentalmente ho questo, quindi sono più un utilizzatore e non un programmatore. Quindi la mia ottica chiaramente è questa, poi potete avere più informazioni se guardate sulle varie reti sociali. Che cos'è il progetto Mappa di cui ho iniziato a parlare? E' un progetto che è nato da tutti quei dati che erano stati raccolti per scopi diversi. Il primo, la tesi di laurea di Francesca Nichini, per fare il primo GIS urbano di Pisa, il secondo per utilizzarli per uno studio su Pisa medievale, che era la mia tesi di dottorato. Una volta che avevamo tutti questi dati ci siamo chiesti come poterli riutilizzare. Allora il gruppo chiaramente si è ampliato e coinvolgendo in maniera fondamentale l'università di Pisa e è stato creato un gruppo di ricerca un po' eterogeneo che vedeva i geologi, che non è una cosa stranissima per l'archeologia, insomma avere insieme i geologi, ma anche i matematici, cioè il fatto di utilizzare i dati archeologici anche da un punto di vista matematico per creare nuova conoscenza. Le basi le vedete qua, cioè la convinzione era che avere un accesso libero alla conoscenza è un motore per lo sviluppo e per l'innovazione e che comunque garantire l'accesso e la condivisione del patrimonio storico e archeologico, cioè dei nostri beni culturali, sia anche un metodo per sviluppare una società della conoscenza che sia veramente democratica. Cioè più circolano le notizie, più circolano le informazioni, più circolano i dati, più consapevolezza c'è da parte generale, non solo degli addetti ai lavori. Sulla base di questo appunto si è voluto provare a creare una carta predittiva del potenziale archeologico, poi vedremo nello specifico di cosa stiamo parlando. Qualche d'uno su Facebook l'ha definita una specie di carta, di mappa del malandrino come quella di Harry Potter, non è proprio così, però chiaramente prova a predire quello che non sappiamo, quindi andare oltre il dato per creare nuova informazione. Qua vedete tutti i luoghi dove potete seguire il progetto, che nel frattempo è finito, è finito a giugno di quest'anno e fortunatamente il progetto è stato trasformato in un laboratorio, un laboratorio mappa, che continua le linee di ricerca che sono state sviluppate in questi due anni. Un'altra cosa che voglio rimarcare, perché secondo me è importante, è il fatto che tutto quello di cui vi parlerò è stato fatto fondamentalmente in due anni. Alla fine vedrete il gruppo di lavoro del progetto che era molto nutrito, però quello che secondo me è importante sottolineare è che nel giro di un tempo molto breve siamo riusciti a fare molte cose, poi se sono state fatte bene o male, ognuno potrà dire la sua opinione, però l'importante è dire che molte cose sono state fatte perché nel frattempo molto intorno a noi era cambiato, quindi abbiamo anche azzeccato un momento particolarmente fertile per tutte quelle che erano le politiche open in circolazione. Questo è stato sicuramente un vantaggio, perché soprattutto nell'ultimo anno parlare di open data non era più soltanto una cosa di super nicchia o sulla quale ti ridevano dietro, ma è diventato in qualche modo una moda e quindi su questa moda siamo riusciti anche a fare molte cose. Perché essere aperti in un campo un po' particolare come quello dei beni culturali in generale e dell'archeologia in particolare? Quali sono le motivazioni? Ce ne saranno sicuramente altre, alcune, quelle almeno principali che io vedo sono queste. Una, la prima domanda è chiedersi chi sia proprietario del passato. Questo sembra una tautologia, però chiaramente nel momento in cui decidiamo di aprire dei dati dobbiamo anche definire di chi sono questi dati. Non è una cosa così semplice. La prima cosa che viene da pensare è che questi dati siano pubblici, siano di tutti, siano patrimonio comune e quindi come tali debbano essere aperti. Io fondamentalmente la penso così, sono patrimonio comune. Non è così da tutte le parti, non è sempre così. Qui ad esempio sintetizzato con questa immagine è un fatto che è successo recentemente, che è il suicidio di Aaron Schwartz. Probabilmente ne avete sentito parlare. Aaron Schwartz aveva hackerato il sito di J-Store, che è un sito che tiene riviste ad accesso aperto, però non così aperto perché per poterci entrare bisogna essere in qualche modo registrati e affiliati a un'università. Quindi è aperto, ma solo per alcuni. Aveva reso disponibile il materiale a tutti. Questo negli Stati Uniti è rientrato al di sotto delle leggi che combattono il terrorismo e la pirateria informatica e Aaron Schwartz rischiava più anni di galera di un omicida. Cioè rischiava tra i 20 e i 25 anni di galera per aver reso di dominio pubblico quello che tutti, diciamo più o meno tutti, pensiamo sia patrimonio comune di tutti. Cioè la nostra storia, il nostro passato, i nostri beni culturali. Quindi non è una domanda peregrina. In altre realtà che non siano quelle italiane, dove magari abbiamo una storia più o meno condivisa da tutti, ma come ad esempio quelle americane o australiane, in cui ci sono dei problemi con i nativi del luogo, con gli indiani d'America o con gli aborigeni, non è così immediato definire a chi appartiene il passato. Eric Hansa, da cui ho tratto questa immagine, che è un ricercatore dell'Università di Berkeley, che si occupa di Open Access e di Open Data, mi raccontava che loro hanno grossi problemi con gli indiani d'America. Perché quando tu scavi un sito degli indiani d'America, loro si ritengono i proprietari di quel passato, non tutti gli americani, ma loro come nativi proprietari di quel passato, e quindi sono loro che devono decidere se aprire i dati o meno. Quindi, di chi è il passato, è una concezione non così immediata da parte di tutti, anche in un paese come il nostro, se volete, in cui vari leghismi o campanilismi di sorta portano a una forte identificazione, spesso con il proprio passato. Io non conosco la situazione qui in Puglia, però io sono genovese, ma vivo in Toscana, in Toscana c'è un fortissimo campanilismo, per cui a distanza di pochi chilometri si odiano, o addirittura nella stessa città come le contrade senesi, e ognuno si sente proprietario del proprio passato, in una maniera molto sanguigna. E questo chiaramente può portare, così come porta spesso, al fatto che tutti vogliono il proprio museo locale, delle proprie cose, quindi c'è questo attaccamento, e quindi c'è un senso di proprietà anche del passato. Dal mio punto di vista, e insomma dal punto di vista del progetto, i beni culturali sono un bene pubblico. giustamente qua c'è questa immagine di questo colosseo rifatto di mattoncini lego, tutta l'area, arco di Costantino, eccetera, eccetera. E quindi, perché questa immagine? Perché appunto i beni culturali sono di tutti, e tutti noi, secondo me, abbiamo la possibilità, dovremmo avere la possibilità di riutilizzarli in una maniera che riteniamo consola. Come può essere questo, diciamo, un gioco in cui io riprendo evidentemente una riproduzione del colosseo e me la ricostruisco di mattoncini lego. Perché appunto sono pubblici. Perché in Italia sono pubblici? Perché fondamentalmente, oltre al fatto che legalmente tutto quello che è un bene culturale fondamentalmente appartiene allo Stato, considerate che nell'archeologia tutto quello che è nel sottosuolo è di proprietà dello Stato, anche se la superficie è di nostra proprietà, quindi un campo, un edificio che è di nostra proprietà, non ha tra le sue disponibilità tutto ciò che sta sotto, perché quella è di proprietà dello Stato. Quindi tutto è di proprietà dello Stato e la collettività paga per la manutenzione, per le ricerche, in vario modo, quindi investe nei beni culturali. Quindi questo investimento che viene fatto sui beni culturali, che è un investimento pubblico, perché sapete benissimo tutte le polemiche che ci sono sull'ingresso dei privati, anche semplicemente sulle donazioni, per fare un restauro è talmente difficile che comunque è limitatissima la parte di investimento privato nei beni culturali. Quindi comunque sia, anche da un punto di vista prettamente economico, l'investimento è fatto dalla collettività e quindi è giusto che la collettività abbia un ritorno che sia quantomeno quello, almeno quello di conoscere i risultati di questo investimento e poi in più quello di poter riutilizzare anche con finalità economiche quello che è invece stato ottenuto con questi finanziamenti. Un altro problema che ci dobbiamo porre è che i dati, soprattutto i dati legati alla ricerca, invecchiano rapidamente. Questo vale per tutti i dati, anche nel data journalism. È chiaro che ci interessa sapere molto spesso più quello che succede in questo preciso momento che non la serie storica. Però in generale il dato della ricerca deve essere fresco per poter fare nuove ricerche, nuove analisi, nuove interpretazioni e quindi abbiamo la necessità che questi dati diventino pubblici rapidamente proprio per non farli rapidamente e inutilmente invecchiare perché comunque hanno avuto un costo nella loro produzione. Allora, visto che i dati sono pubblici, sono stati pagati con dei soldi della collettività, invecchiano rapidamente, la cosa importante da fare è riciclarli, cioè dargli una nuova vita. Allo stesso modo, quindi come si fa con la plastica, con la carta, con tutto il riciclo, anche i dati devono essere riciclati, cioè riutilizzati per creare nuove cose. Negli ultimi 40 anni, soprattutto in archeologia, ma non solo, nei beni culturali, sono stati prodotti, sterminati documentazioni di cui spesso e volentieri nulla sappiamo. Appunto, giaciano negli archivi, invecchiano inutilmente e non solo non producono nuova ricerca, ma non producono neanche occupazione, nuova economia, innovazione, cioè rimangono lì, giacciono inutilizzati. È veramente come se noi tutti questi dati, in parte, li buttassimo un po' nella spazzatura, cioè li mettiamo dentro delle discariche, ma non li riutilizziamo veramente. Quindi è importante che questi dati entrino in circolo, perché così possono appunto mettere in moto tutto un volano che è quello sia scientifico che quello anche economico. Perché comunque avere dati aperti di questo genere ci può permettere appunto di incrementare il turismo, di fare attività economiche delle quali francamente io spesso e volentieri dico non ho nessuna idea, perché non è che debba venire a me l'idea, ma se ci sono, sono sicuro che a qualche d'uno verranno delle ottime idee per utilizzarli. Quindi più sono aperti, più sono lì alla portata di tutti, più saranno utilizzati in maniera intelligente. Questo, diciamo, in maniera sintetica, è il ciclo in bianco e nero, in piccolo, il ciclo che fanno ora i dati, proprio in maniera molto sintetica. Io qui l'ho sintetizzato c'è uno scavo archeologico, viene pubblicato in un libro e viene ripreso da un ricercatore tutto un po' in piccolo e magari dà luogo a una nuova ricerca, a un nuovo ciclo economico. Invece, in un'ottica di riciclo del dato, io raccolgo questi dati, li riverso liberamente in rete come dati aperti. Ancora di più, li immetto come link ad open data, cioè esprimo al massimo le potenzialità, quindi non soltanto dati grezzi, ma anche dati che possano essere con più facilità linkati e utilizzati e a questo punto nuove idee vengono fuori in generale per la ricerca, per l'innovazione, per il business eccetera eccetera. Vedremo poi nell'ambito diciamo delle licenze con cui aprire i dati come siano queste fondamentali per fare veramente dati aperti e sviluppo anche economico su questi dati. Come si fa? Quali strade abbiamo per essere aperti in archeologia o comunque nei beni culturali più in generale? Quali sono le due principali metodi per essere aperti in questo campo? Fondamentalmente abbiamo due chance. una è quella dell'open access e l'altra è quella dell'open data. Qua vedete queste qui sono le locandine che abbiamo fatto in maniera un po' così un po' per ridere per prenderci anche un po' in giro noi quando abbiamo fatto il nostro convegno a giugno sintetizzando così diciamo con tutti gli interventi le sessioni sull'accesso aperto e i dati aperti queste sono le due principali vie che cos'è che cos'è l'open access ora tra l'altro la settimana prossima c'è la settimana sull'open access e fondamentalmente questo modo di questa espressione indica l'accesso libero a articoli pubblicati in riviste accademiche o in libri in monografie insomma il fatto di poter ritrovare i risultati interpretati più o meno interpretati della ricerca disponibili liberamente senza restrizioni o con poche restrizioni in in rete ci sono due strade per fare per fare open access una viene definita gold road cioè quando praticamente la rivista il libro la monografia quello che è parte direttamente dall'editore come accesso aperto quindi sono direttamente i siti editoriali che rendono disponibili liberamente i contenuti e invece un'altra sistema è quello dell'auto dell'auto archiviazione detta la green road ed è quella che viene utilizzata da siti come ad esempio academia cioè siti in cui i ricercatori mettono liberamente fruibili sul web i propri le proprie produzioni chiaramente sarebbe preferibile la prima la prima delle strade piuttosto che la seconda ma insomma comunque l'importante è che siano disponibili questi materiali anche in questo caso l'anno scorso c'è stata una grossa lotta contro i grossi editori di pubblicazioni scientifiche soprattutto il Zvier da parte di numerosi ricercatori in tutto il mondo la protesta è partita da un matematico di Cambridge il quale giustamente ha fatto notare come queste riviste questi editori abbiano un ricavato altissimo su dei contenuti che loro fondamentalmente non producono perché è il ricercatore che produce il contenuto loro lo commercializzano lo vendono spesso a dei costi altissimi spessissimo ad accesso chiuso e il ricercatore non può fare nulla perché firma dei contratti che lo costringono diciamo a queste politiche questa aperta sfida ai grossi editori internazionali ha ammorbidito molto le posizioni degli editori appunto grossi editori come appunto Elsevier ma anche Springer hanno iniziato ad aprire molto di più i loro i loro contenuti e anche i governi hanno fatto hanno fatto la loro parte ad esempio sia la comunità europea che il il governo inglese e il governo americano hanno iniziato a dire dobbiamo rendere disponibili come open access i dati pubblicati cioè finanziati dalla ricerca pubblica questo è chiaramente molto importante era apparso anche nella prima stesura del decreto valore cultura e poi dopo è stato un po' un po' ammorbidito almeno il 50% cioè quello che in un primo momento era detto che almeno quello che era finanziato con almeno il 50% doveva andare come accesso aperto via via però questo è stato diciamo molto ammorbidito perché non è più obbligatorio ma è diciamo caldeggiato è chiaro che non è la stessa cosa una domanda non ho ben capito questa questione della pubblicazione cioè in diciamo in formato open degli articoli finanziati pubblicamente cioè se una ricerca è finanziata solo non lo so dall'università di Pisa cioè non ho capito bene se ce lo puoi spiegare è meglio anche proprio quali fondi perché praticamente il principio generale che dice la la comunità europea e su cui si sono appoggiati molti stati prima di tutto l'Inghilterra in Europa ma non solo è quella che se una ricerca è finanziata con soldi pubblici quindi diciamo in qualche modo è lo stato o un ente pubblico che ha finanziato la ricerca quindi non un investitore privato non una corporation non una ditta questa ricerca deve essere accessibile come open access quindi siccome poi ad esempio nella ricerca italiana ma in quasi tutta la ricerca europea in questo momento grosso dei finanziamenti è di natura pubblica questi dati qua devono essere pubblicati come open access lo stesso dice il governo americano soprattutto per tutto quello che riguarda ad esempio la salute che sono ricerche molto spesso prodotte dal National Health Institute che è praticamente il loro ministero della sanità e quelli devono essere liberamente accessibili questo è il principio spesso magari il cofinanziamento è di una percentuale più o meno pubblica o privata in quel caso come funziona? allora in quel caso ad esempio il decreto valore cultura inseriva questa normativa che diceva se erano finanziati almeno al 50% quindi se la metà almeno era un finanziamento pubblico dovevano essere pubblicati come open access perché diciamo era come se fosse il socio di maggioranza della ricerca viceversa ricerche invece che sono finanziate diciamo da privati quello sta ai privati ci sono chiaramente anche tutta una serie ora io l'ho semplificata ci sono tutta una serie di casi in cui se la ricerca è finalizzata a creare dei brevetti ad esempio o comunque qualcosa che è soggetto a una protezione in quel caso lì non è necessario cioè in quel caso non solo non è necessario però è dato la possibilità di non pubblicare come accesso aperto perché in quel caso lì ci sono delle finalità chiare poi di sfruttamento economico che in qualche modo dicono di non farlo se uno vuole brevettare non può pubblicare quello che poi brevetterà questo per la legge sui brevetti a livello europeo quindi io se ho un brevetto me lo devo tenere nascosto anche se è frutto di una ricerca pubblica la pubblicità poi di quello che ho dato avviene nel momento in cui avrò il brevetto perché contemporaneamente purtroppo ci metto sopra un copyright quindi lo proteggo e lo rendo inutilizzabile da altro ma contemporaneamente devo rendere accessibile la documentazione che mi permette di fare quel brevetto non è utilizzabile ma è consultabile diciamo però in tutta una serie di ricerche come possono essere quelle sui beni culturali chiaramente questo andrebbe molto molto a vantaggio della conoscenza esistono però delle forme diciamo di accesso aperto che non sono semplicemente quelle delle riviste o comunque degli articoli delle pubblicazioni più a cui siamo abituati diciamo normalmente esistono delle forme di accesso aperto in cui ho la possibilità di visualizzare il dato senza che questo dato sia effettivamente un dato scaricabile un dato aperto in tutto e per tutto sono casi ad esempio di cataloghi anche dei musei dove io ho la possibilità magari di vedere alcune cose senza che poterle scaricare e riutilizzare in campo archeologico questa questa pratica non è diffusissima in tutto e per tutto però sta iniziando a diffondersi sempre di più i primi ad aver fatto accesso aperto ad altissimo livello e diciamo in grandi quantità sono stati i ricercatori dell'università di Siena soprattutto del laboratorio di archeologia medievale e qua vedete in particolare uno scavo che loro fanno da una decina d'anni è lo scavo del castello di Miranduolo nel quale pubblicano tutto quello che fanno quindi questo è un open access però molto molto sofisticato nel quale io ho la possibilità di fare ricerche all'interno dei dati pubblicano tutte le interpretazioni che fanno ma pubblicano anche tutta la documentazione che producono in questo caso nella schermata se andate a vedere sul sito guardando il link pubblicano tutte le schede che fanno e uno ha la possibilità attraverso delle chiavi di ricerca di andare a cercare le cose che più gli interessano questi dati appunto sono fruibili ma non sono dati aperti ecco qui ogni tanto in archeologia si fa della confusione perché questo è un sistema molto molto bello veramente di elevatissima qualità per fare open access ma non è open data questo deve essere chiaro chi mette tantissimi contenuti fruibili in rete non è detto che questi dati poi siano riutilizzabili come ci chiedono ci chiedono invece i paradigmi dell'open data quindi qui troverete di tutto ma non potrete riutilizzare questi dati a meno che non vi mettiate voi a trascriverli manualmente passandoci moltissimo tempo è un peccato perché loro producono una quantità di dati di altissima qualità che messi insieme ad altri dati potrebbero veramente permettere nuovi e impensati sbocchi però intanto diciamo abbiamo di tutto c'è la documentazione 3D ci sono le analisi al carbonio 14 ci sono le foto aeree fatte dal pallone dall'aquilone ci sono tutto quello che producono però appunto semplicemente consultabile il link ho sbagliato no non trovo il link a questa parte dove c'è proprio il database visibile devi andare eh sì però poi quello non si apre l'hanno chiuso ah sì non lo so è impossibile collegarsi a archeologia medievale unisi punto it punto iran hanno hanno dei problemi si vede sul sito sì no infatti non sarà perché il link io l'ho guardato tre giorni fa una cosa momentanea sì sì no che genere sono forse o hanno troppi troppi accessi o lo stanno no perché loro in questo momento stanno scavando ed è questa una cosa molto bella loro in questo momento stanno scavando e implementano praticamente in tempo diretto con i giornali di scavo tutto quindi c'è dietro un grosso un grosso lavoro che potrebbe essere ancora più di valore se appunto questi dati fossero anche diffusi come dati aperti un altro esempio è la missione archeologica a Mozia qui ci sono due link se volete andare a vedere proprio la missione il secondo il primo invece è il powerpoint che è stato presentato da Simone Massi al convegno open in the past a Pisa a giugno in questo caso abbiamo l'utilizzo di una piattaforma wiki per fare anche in questo caso dell'ottimo dell'ottimo open access cioè tutti i dati della della ricerca fatta dall'università la sapienza a Mozia vengono riversati in questo wiki sul quale però uno si deve registrare se non sono cambiate le cose se non sbaglio devi registrare devi chiedere l'accesso e poi consultare i contenuti che sono all'interno anche in questo caso abbiamo dei contenuti molto ricchi perché abbiamo le schede che vengono prodotte ma anche tutte le foto dei reperti ceramici dei vari reperti la catalogazione quindi un database molto ricco però appunto soltanto visualizzabile fruibile in questa senza poter utilizzare effettivamente effettivamente il dato quello che è interessante in questo caso è il fatto di aver scelto una piattaforma wiki anziché diciamo un database tradizionale perché almeno all'interno del loro gruppo di ricerca e questo comunque è importante c'è la possibilità di intervenire nell'emissione dei dati di modificare il dato magari l'interpretazione via via insomma di farlo in maniera collaborativa come richiesto da un wiki e probabilmente anche con un dispendio di struttura del database più semplice utilizzando già quello del wiki questo caso credo abbiano usato wikimedia anziché appunto creare ex novo un database o un web database per utilizzare per rendere fruibili i dati ci sono altri altri esempi di open access che sono diciamo interessanti perché sono collegati anche al dato al dato geografico ce n'è molti di più lo stesso sito di miranduolo ha tutto il web GIS dello scavo qui ne ho sintetizzati due evidenziando anche un piccolo problema nel primo caso è fasti online che raccoglie fondamentalmente cioè diviso in due praticamente fasti online ha una una parte legata anche alla geolocalizzazione delle ricerche in cui uno può aprire delle brevi schede in cui viene raccontato legato appunto al singolo pallino sulla carta in cui viene raccontato in maniera breve e sintetica il dato di scavo quello che è stato trovato la cronologia insomma in 500 caratteri più o meno c'è una prima informazione su un determinato scavo la cosa importante è che siano geolocalizzati e il fatto che contiene quantomeno tutti o dovrebbe contenere tutti gli scavi in concessione della soprintendenza perché ormai sono anni che la soprintendenza per dare nuove concessioni archeologiche fa immettere i dati questa breve scheda riassuntiva su fasti online quindi almeno un quadro un po' generale degli scavi in concessione in Italia e non solo perché c'è anche altro si può trovare su fasti online il secondo invece è un prodotto veramente veramente sarebbe un prodotto veramente eccezionale il problema è che vi sfido a trovare se voi andate seguite il link vi sfido ad aprire il sitar il sitar è il webgis cioè il sit archeologico di Roma è un lavoro davvero eccezionale noi siamo in contatto da anni con i colleghi del sitar però fondamentalmente non ci si riesce ad accedere web o quale perché non si trova c'è sitar strumento musicale o se te segui il 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 link arrivi a questa pagina e poi dice segui questo link per accedere al sitar dopodiché io sfido c'è la rotella c'è la rotella che che va avanti questo chiaramente ci troviamo di fronte a un lavoro gigantesco perché vuol dire inserire tutti i dati archeologici che comunque vengono prodotti in continuazione anche in questo momento tutti gli scavi urbani assistenti che vengono fatte a Roma e vengono inserite su questa piattaforma webgis qua però che è una piattaforma molto sofisticata che gestisce una quantità di dati enorme come vedete dopo un po' si rifiuta di andare avanti che però non è ancora pienamente accessibile quindi ci sono anche delle questo sarebbe un progetto molto positivo perché è stato fatto direttamente dal ministero dei beni culturali quindi è la soprintendenza speciale di Roma che sta facendo questo anche qua i dati sono tantissimi è pubblico ma è inaccessibile quindi in parte per problemi loro di rete interna in parte per problemi diciamo politici ma il dato di fatto è che è inaccessibile o comunque è accessibile con difficoltà questo chiaramente è un vero un vero peccato perché i dati avere a disposizione anche semplicemente come accesso aperto tutti i dati archeologici di Roma sarebbe una cosa ed è una cosa nelle loro intenzioni perché loro chiaramente fanno di tutto perché questo sia accessibile ed è una cosa eccezionale ma chiaramente con delle con delle difficoltà purtroppo e ora invece veniamo a il GIS che abbiamo fatto noi all'interno del progetto se avete delle domande su queste cose generali ok questo è il 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 web GIS che abbiamo fatto poi facendo un po' gli esagerati abbiamo voluto chiamare mappa GIS ma insomma è il web GIS che abbiamo fatto per il progetto per il progetto mappa e quali sono stati diciamo i parametri di questo web GIS allora questo web GIS contiene tutti i dati archeologici a disposizione provenienti sia da quello che è stato pubblicato sia dagli archivi della soprintendenza in collaborazione con la quale è stato fatto questo questo web GIS e senza nessun filtro di nessun genere cioè i dati che ci sono sono fruibili a tutti anche questo che sembrerà una banalità purtroppo nel campo dei beni culturali non è sempre così banale perché anche fare accesso aperto in questa maniera qua cioè visualizzare semplicemente una localizzazione di un ritrovamento è problematico e rendere tutti i dati che avevamo deciso di dire accessibili non è sempre così facile spesso chiedono accessi diversificati password la necessità di registrarsi al sito come abbiamo visto per Mozia eccetera eccetera quindi ci sono a volte delle chiusure più che altro mentali delle paure veramente immotivate e noi per fortuna grazie appunto alla collaborazione sia con la direzione regionale della Toscana che con la sopraintendenza siamo riusciti a rendere questo WebGIS totalmente totalmente aperto ora ora qua prima di vederlo un attimo per vedere quello che c'è dentro il WebGIS è stato fatto tutto con software open source poi anche il mod il progetto però non ha lavorato soltanto su software open source nel senso che abbiamo utilizzato sia software proprietari un po' per per il fatto che alcune banche dati erano già informati proprietari e in parte per una generale dimestichezza di parte dell'equip a utilizzare determinate software visti i tempi insomma abbiamo deciso di continuare in parte a utilizzare software proprietari ma tutto quello che invece abbiamo fatto ex novo è stato fatto invece con software open source qua vabbè diciamo sono tutti dei classici legati al WebGIS se invece seguite il link del vi ritrovate sul sulla pagina che vedete qui del WebGIS allora noi abbiamo riversato all'interno di del WebGIS sia tutti i dati che sono stati poi alla base del nostro algoritmo per la predittività quindi diciamo i dati che poi abbiamo utilizzato come dato primario per elaborare l'algoritmo sia anche i dati invece frutto delle elaborazioni quindi in modo da rendere trasparente tutto il processo che abbiamo fatto ma soprattutto ritornando al discorso che abbiamo fatto che abbiamo fatto all'inizio restituire alla collettività più ampia possibile tutti i dati che noi abbiamo abbiamo raccolto e quindi come come vedete abbiamo inserito tutti gli interventi archeologici che sono stati fatti ma anche tutti i singoli ritrovamenti vedete qua come pallini diciamo ma anche andando più nello specifico dove era possibile anche le tracce materiali effettive cioè ad esempio i muri delle strutture che sono state che sono state ritrovate dove esisteva una cartografia e dove questa cartografia era georiferibile chiaramente a ognuna di queste cose è chiaramente collegata a una scheda che dà tutta una serie di informazioni diciamo base semplificate come quelle appunto sulla presenza in questo caso di un piano pavimentale tardo antico ma la possibilità di aprire una scheda con ulteriori informazioni qua siamo sicuramente nell'open access ma alcune cose si avvicinano un po' verso l'open data perché questa scheda è quello che vedete qua è scaricabile come csv e quindi può essere chiaramente riutilizzato in un formato machine readable può essere riutilizzato da chi da chiunque per farne quello che crede meglio perché per farne quello che crede meglio perché tutte le cose che sono nel in questo webgis sono licenziate con una licenza creative common buy quindi a noi interessa semplicemente che chiunque li riutilizzi dica che queste cose qui vengano dal progetto mappa per il resto può farne l'uso che che crede che crede meglio ci sono anche ad esempio le sepolture quindi uno può vedere anche l'orientamento delle varie sepolture eccetera un'altra cosa importante è che uno può scaricare i dati anche ora qui ho fatto cioè può scaricare il dato del il dato immagine come geotiff quindi nel momento che io faccio una selezione mi ritaglio una porzione del del tessuto urbano che più mi interessa lo posso scaricare come immagine già georeferenziata anche in questo caso è sempre chiaramente un dato di open access che si avvicina però un po' al dato aperto perché chiaramente io poi a quel punto lì dopo che mi sono scaricato la mia la mia immagine la posso riutilizzare come mi pare se io in questo momento su questa selezione scarico i dati io avrò diciamo cosa avrò un csv di questi dati di questi dati cioè di questa scheda che io vedo con anche i dati geografici della mappa scusami io non so spiegarmi bene tecnicamente però io avrò questo pezzettino che posso visualizzare e insomma lavorare come voglio io poi dopo esatto esatto puoi utilizzare questi dati come vuoi quindi diciamo come dicevo un po' una via di mezzo perché essendo un csv lo puoi riutilizzare tranquillamente non hai tutti i dati perché tutti i dati che poi sono contenuti nella scheda in questo in questo momento sono disponibili solo a stampa come vedi che sono poi magari lì magari c'è più dati perché c'è qui ora è una scheda molto breve ma in alcuni casi magari c'è parecchie informazioni e le puoi scaricare come stampa questo però verrà superato qui così chiudo verrà superato perché questi dati che sono nelle schede verranno poi distribuiti sul mod completamente come open data quindi tutti i dati che in una prima fase abbiamo deciso di fare in questa maniera ci premeva diffondere i dati renderli in parte disponibili come csv o come geotiff ora che il progetto è finito tutto l'insieme dei dati che vedete qua sopra sarà disponibile invece come dati aperti volevi chiedere qualcosa c'è una domanda che è arrivata come commento su facebook da francesco di virgilio che ci dice a proposito però del progetto mozia dice è bello e fenomenale considerando il contesto italiano archeologico ma come si fa ad automatizzare la gestione delle us e se sono se sono su media wiki e gis questa domanda e ora non credo che la gestione delle us su bisognerebbe chiedere a loro a mozia non credo che sia automatizzato c'è un'immissione dati manuale eccetera eccetera per quanto riguarda il web gis se uno ha un unico database diciamo se fai riferimento a un unico database geografico quello lo puoi invece in tempo reale aggiornare quindi quello è molto più facile il wiki così come la parte di missione penso dati in un database è manuale lo stesso per il web gis cioè te devi comunque creare inserire i dati nel database geografico e poi esportarli come web gis cioè l'esportazione immediata però comunque l'immissione dati è ancora è ancora manuale e questo chiaramente è un problema visto le ora qui come come vedete poi appunto ci sono i dati sulle tracce che vengono dalle foto aeree ad esempio cioè tutti i dati la lettura delle foto aeree qua vedete in questo stralcio ma se no in viola vedete tutti i dati delle delle foto aeree che sono stati evidenziati nella lettura sono state fatte tutte le analisi invece sull'edilizia storica e in questo caso invece potete questo può essere anche diciamo una cosa di uso uso più comune nel senso che uno può andare a vedere i vari palazzi di Pisa e cercare di rivederne la storia sapere quale più o meno può essere la storia in questo caso un palazzo di inizio ottocento eccetera eccetera in alcuni casi nei palazzi più più importanti per ora è stato fatto soltanto a campione visto la quantità di di lavoro che è stata fatta c'è la presenza di alcune alcuni edifici che invece riportano l'immagine con la la lettura del ho aperto la scheda sbagliata la lettura degli elevati e qui vedete in maniera molto sintetica si vedono le varie ora qui è un edificio si vedono colorati diversamente le varie parti le varie fasi murarie che lo compongono in questo caso qui ne faccio vedere sì i colori diversi a cosa corrispondono quindi ecco praticamente qua che c'ha più colori forse si si vede meglio come come spesso capita un palazzo che noi ora vediamo in una sua fase finale è il frutto di una storia molto complessa data dall'accorpamento di più edifici o dal rifacimento di edifici più antichi che sono stati fatti nel tempo trasformati l'archeologia degli elevati altra non fa che evidenziare questi elementi che ancora sono visibili in un edificio e in qualche modo ne ricostruisce cerca di ricostruirne la storia qua si vede sui vari colori la parte ad esempio in in azzurro sono i pilastri degli edifici medievali che compongono poi questo palazzo che è stato accorpato nel 500 e quindi sono ancora visibili queste strutture medievali che sono la prima fase di questi edifici erano tutti edifici separati e poi sono stati uniti in un unico palazzo all'inizio del 500 e quindi si vedono queste quelle ad esempio in viola fanno parte sempre degli edifici medievali ma sono fatti in un momento posteriore quindi la prima parte è quella azzurra poi hanno fatto quei due in viola e poi hanno fatto il palazzo tutto unito questo diciamo in maniera queste foto sono sono riutilizzabili e ad esempio uno le può utilizzare se gli interessa mettere a casa sua gli interessa a venderla e dice io vi vendo un palazzo storico per dire o può quindi anche da un punto di vista del di un privato che ne vuole fare uso oppure la può inserire su history pin in maniera molto semplice fa vedere le fasi edilizie di casa sua altre idee a chi ce l'ha insomma ecco questo questo chiaramente e vai posso scaricare informato open quindi io poi una volta che scarico questa scheda la posso rielaborare hai fatto questi esempi insomma sulle per esempio valutazioni degli immobili che è interessante diciamo per l'uso commerciale poi di questi dati allora se io voglio vendere il mio palazzo però penso sempre pensato che fosse storico invece non lo è vedendolo da questi dati cioè io che faccio essendo open li posso in qualche modo truccare scusa la domanda un po' cioè io se scarico i dati in formato aperto poi li posso rielaborare quindi potrei in qualche modo truccare diciamo che questo non è è chiaro che tu in quel momento lì fai un falso cioè quello chiaramente io ti lascio libera la mia immagine cioè è come Duchamp che disegna i baffi sulla gioconda non è più la gioconda è la gioconda di Duchamp io chiaramente posso fare un falso come anche con un CSV hai dati un giornalista prende i dati e li modifica i dati sono quelli e ci scrive che i reati li fa diventare di più o di meno a seconda del suo interesse e quello è cosa però io nel momento in cui c'ho sempre la fonte cito la fonte e quello uno poi diceva a vedere diceva sì ma la fonte è questo ah però questo c'è scritto che invece è chiaro è un problema in questo senso è un problema di verità è come quando un giornalista scrive un articolo scrive male l'articolo magari c'è chi legge il 90% delle persone prenda per scontato quello che viene scritto poi qualcuno può andare a verificare e vedere che l'articolo è inesatto è lo stesso principio a questo punto sì è un principio forse diciamo il problema è che queste tecnologie diciamo anche io magari questo non è proprio il mio ambito però comunque è molto interessante ci sono dei principi basilari per tutti gli open data magari queste tecnologie al momento non sono ancora così di utilizzo comune quindi possono sorgere spontaneo questo tipo di domande diciamo diciamo che il fatto di avere dei dati aperti dovrebbe in generale spingere a una trasparenza cioè spinge a una trasparenza perché io posso fare la stessa cosa anche adesso io prendo la foto del mio palazzo facciamo l'esempio del palazzo e dico che è un palazzo storico e quindi vale tantissimo perché ci disegno sulla foto quello che mi pare a me non ho magari nessuno strumento per verificarlo ora come ora il dato aperto mi consente questo strumento tornando al giornalista il giornalista come spesso e volentieri ha detto l'incremento dei reati del 300% e tutti stanno in casa perché hanno paura e nessuno di noi può verificare questo dato perché io non so come cittadino andarlo a controllare a verificare la fonte perché mi devo fidare di quello che dice il giornalista che magari lo fa in buona fede se è sbagliato oppure non lo fa in buona fede e vuole incrementare certi però non posso verificare cioè avere dei dati aperti stimola alla trasparenza perché io questi dati li posso verificare magari io perché non ne so nulla di reati e magari me ne capisco di archeologia ma se uno tarocca il dato archeologico lo posso verificare e il giornalista può verificare il dato taroccato di un altro giornalista ora come ora tutto questo non si può fare le tecnologie informatiche chiaramente insomma photoshop lo conosciamo tutti ci permette di fare dei fotoritocchi siamo tutti belli magri slanciati eccetera eccetera quindi abbiamo un'altra domanda sempre è acceso avere il microfono ci sono stati da Luigi Reggi ci sono stati già stati esempi concreti di riutilizzo di questi dati allora di di questi cioè come come dati di utilizzo in generale sì perché in parte i dati che abbiamo fatto noi sono sono stati partono da questi dati che noi abbiamo messi pubblicamente li abbiamo riutilizzati però diciamo va cioè il riutilizzo c'è stato ma è un riutilizzo classico cioè ho dei dati li riutilizzo come è sempre stato come fa sempre la ricerca questo è stato fatto di invece di dati riutilizzati da altri al di fuori del progetto non abbiamo ancora non abbiamo ancora conoscenza finora i dati questi dati sono stati riutilizzati ma dal progetto non da altri e abbiamo abbiamo chiesto in generale chiediamo a tutti quelli che se qualcuno riutilizza dei dati di farcelo sapere perché a volte magari sono stati utilizzati ma non lo sappiamo e questo è un problema in generale che non abbiamo solo noi vabbè noi siamo diciamo da un anno che ci sono queste cose quindi magari i tempi non sono ancora molto maturi ma soltanto l'anno scorso a livello internazionale una grossa conferenza che si chiama Computer Application in Archeology ha inventato un premio nel 2012 sui dati riciclati proprio per evidenziare chi riutilizza i dati per nuove ricerche eccetera eccetera e in questo caso il premio è interessante perché viene premiato sia chi ha riciclato i dati sia chi quei dati ha messo cioè vengono premiati sia i produttori di dati che hanno dato la possibilità di fare una nuova ricerca sia chi è stato bravo da riutilizzarli per la nuova ricerca è un problema che a livello internazionale si stanno ponendo in molti soprattutto gli inglesi che sono poi come vedremo i più avanti in questo campo perché il governo britannico inizia a dire sì e voi avete tutti questi dati è vero ma questo costa e che cosa ne abbiamo in cambio noi siamo all'inizio è un problema che essendo partiti più tardi dobbiamo porci subito bisogna che questi dati vengano riutilizzati quindi per ora non abbiamo ancora notizie speriamo che vengano riutilizzati sì 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 è vero è vero è vero ma c'è un altro esempio non so io ho un background un po' per dire misturi sulla studenta allora anche il giappone la cina hanno un patrimonio importante che però per loro cultura, loro mentalità, dicevamo con Paolo, avevano una concezione del passato un po' diversa, per cui a Pechino per esempio non si è esitato a radere al suolo gran parte del centro storico per costruirci nuovi palazzi, se da questo punto di vista ci sono prospettive interessanti anche in altre realtà di fuori dell'Europa o degli Stati Uniti che suppongono siano anche essi all'avanguardia, però non hanno un patrimonio storico, ho fatto l'esempio dei latini americani, però la gran parte per via dei fenomenistrati e gran parte delle città americane sono nuove, magari mi pongo il problema, non so, in America Latina per esempio ci sono siti fondamentali, se ci sono, se sai, ci sono anche lì. Allora, vabbè, chiaramente io non mi occupo di restauro, però queste sono cose abbastanza conosciute, conosciute nel senso che in Asia c'è una concezione del restauro molto diverso dalla nostra, cioè non soltanto quello non si esita a radere al suolo che magari cambia la mentalità, perché comunque nell'Ottocento qui in Europa e in Italia abbiamo sventrato centri storici ovunque, perché dovevamo ricostruire tutto secondo le nuove strategie urbanistiche, primis Firenze, Piazza della Repubblica, lo sventramento di una parte della Firenze medievale, fine dell'Ottocento. In Europa è una cosa che è successa, quindi uno dice magari sono, è un fenomeno a cui poi piano piano ci si arriva, loro hanno una concezione diversa proprio, che non è legata alla conservazione, spesso hanno magari tanti edifici in legno, noi se avessimo un edificio in legno faremmo di tutto per mantenere quel legno, loro invece lo sostituiscono con uno identico, perché hanno una concezione della conservazione che è quella dell'oggetto in sé, nel suo complesso, cioè io conservo quell'oggetto, ma non lo fossilizzo, tra virgolette, nel momento in cui è stato fatto, ma per il significato che ha, e quindi non è importante se sostituisco. Esatto, è proprio... Lo sostituisco per il significato che ha. Esatto, quindi ti dico, se noi abbiamo un edificio in legno, cerchiamo di conservarlo e di sostituire il meno possibile, loro invece dicono, questo qui casca, che faccio? Vabbè, questo legno qui ormai è andato, ce ne metto un altro nuovo, e lo faccio uguale, 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 quindi è proprio una concezione del restauro in questo caso, quindi una concezione della conservazione del patrimonio diversa. Per quanto riguarda invece in generale i dati, dove uno può vedere anche cose che non sono soltanto in, diciamo, europee, c'è questo giornale che si chiama Journal of Open Archaeological Data, che raccoglie una serie di, come si dice, di repositories, nei quali uno può inserire dati archeologici, sono tutti europei e americani, quegli americani però, come Open Context ad esempio, raccolgono dati che vengono anche da situazioni, cioè da contesti non statunitensi. loro chiaramente hanno missioni in tutto il mondo, quindi ad esempio su Open Context ci sono tutti i dati di Chattaluyuk, per esempio, oppure ricerche magari latinoamericane, fatte però dagli americani. ecco, quindi di archivi invece sudamericani, insomma, io francamente non ne conosco, non so neanche se ci sono, e vabbè questo è un altro problema perché comunque i sudamericani mal sopportano, lo vedono, lo vedono un po' come un colonialismo e quindi lì ci sono anche dei problemi politici dietro, eccetera, eccetera. Mi pare ci siano anche dati asiatici su questi repositories americani, si può anche controllare direttamente perché c'è subito una cartina su Open Context in cui si vedono, ecco, vedi, qui ti vedi, vedi subito, ecco, vedi, c'è parecchie cose medio orientali, c'è un po' di Sud America e c'è qualcosa, vedi, in Indonesia e in Asia. però sono, appunto, dei progetti americani o comunque in parte americani, non nativi, diciamo, dei luoghi, quindi sì, c'è un po' una sensibilità diversa da questo punto di vista. e poi, appunto, qui chiaramente ci sono, appunto, altri dati che uno può utilizzare sono quelli sulla cartografia storica, in parte vettorializzata, in parte resa come immagine e che, appunto, anche queste forme sono dati accessibili non solo di interesse squisitamente di ricerca, perché comunque sappiamo che in generale c'è tanta gente a cui ci interessa vedere come si è modificata la città e quindi vedere come era nell'Ottocento o le planimetrie più antiche o, ad esempio, questa carta qui è la carta, è un raster delle mura di Pisa e è una carta del 600 che magari per la ricerca, sì, è interessante, però non solo per la ricerca ma anche, diciamo, il comune cittadino che è curioso può trovare delle cose interessanti e così via, appunto, tutti i dati geomorfologici la paleogeografia, questo come si è evoluta nel tempo l'area pisana che sono, appunto, dati, diciamo, derivati cioè dati che abbiamo creato nel corso del progetto quindi i dati che siamo riusciti a tirar fuori di come era l'ambiente nei vari periodi storici e sono dati che possono avere, appunto, un utilizzo non soltanto di ricerca il vincolo archeologico, ad esempio, lo può utilizzare semplicemente il comune o il privato per verificare se dove sta facendo, vuole ricostruire la sua palazzina o vuole fare un'altra opera e c'è sopra un vincolo archeologico e così via un'altra cosa che non abbiamo ancora fatto ma vorremmo fare è quella di, in parte di questi dati, di renderli disponibili come WMS cioè come web map server in modo tale che chiunque, senza dover scaricare i dati basta che si colleghi al nostro web GIS e li può inserire direttamente come base sul proprio GIS desktop oppure in un altro web GIS una cosa, invece, che abbiamo provato a fare, purtroppo forse anche per colpa nostra con scarsissimi risultati è segnala segnala era un tentativo probabilmente con una base troppo scarsa che è quella solo della città di Pisa io ho una cosa in cui credo ma o ho avuto poca diffusione, quindi sicuramente per colpa nostra o sono troppo pochi gli utenti in questo momento di un tale servizio che era quello di segnalare se uno notava delle attività di scavo che non erano sorvegliate dagli archeologi era, diciamo, l'idea di una cittadinanza attiva come si dice anche troppo spesso, diciamo, 2.0 rispetto alle segnalazioni fatte negli anni 70 in cui uno pigliava carta e penna e scriveva al soprintendente dicendo, ho visto che camion, carichi di terra stanno uscendo dal cantiere andiamo a vedere, salviamo il salvabile questo, purtroppo, noi avevamo provato appunto a fare una specie di open street map fix map con l'archeologia ma non ha avuto la risposta che immaginavamo credo, credo che sia una questione di numero di utenti obiettivamente cioè, andrebbe sperimentato su un territorio vasto a livello quantomeno regionale in cui, per avere una base di utenti e avere le prime segnalazioni e far vedere che una cosa del genere una cosa del genere possa funzionare Appunto, se la regione c'è stata in Toscana oltre a Pisa c'è stata qualche altra manifestazione di interesse visto, insomma, il patrimonio La regione che ha finanziato questo progetto è chiaramente molto interessata al fatto di, in qualche modo, poterlo esportare ampliarlo, perché questo, diciamo, era un progetto campione per verificare se funzionava se riuscivamo a fare quello che che ci eravamo proposti eccetera, eccetera quindi c'è sicuramente da parte loro un interesse e ora la nostra idea, appunto, è quello di continuare su questa strada è anche vero che, appunto, il progetto è finito a giugno quindi i tempi sono veramente ravvicinati quindi abbiamo comunque bisogno di ancora un po' di tempo per continuare, in qualche modo, a a pubblicizzarlo però, legato a questo penso che ci sia la necessità di una maggior di una maggior platea di utenti perché questo cioè, probabilmente, la sola città di Pisa non è come Milano, Roma insomma, una città grande o Napoli insomma, una città con un numero di abitanti tale da poter avere almeno un po' di segnalazioni per partire Sì, appunto, comunità è un comitato più grande, eccetera ti chiedo se avete magari intercettato in iniziative legate, per esempio, a OpenStreetMap delle comunità già attive sulla segnalazione di dati di tipo archeologico che magari possono supportare magari anche il territorio in sé a fare progetti di questo tipo non lo so, a me viene in mente una cosa che è stata fatta in Sardegna ultimamente che è OpenNuraghe in cui hanno mappato tutti i nuraghi tra l'altro c'è anche penso su GitHub insomma tutto il codice che hanno usato Allora ci è venuto in mente non l'abbiamo ancora fatto ci è venuto in mente ma ripeto cioè va fatto su delle realtà geografiche più grandi cioè OpenNuraghe che è stato un successo riguardava tutta la Sardegna quindi è chiaro che hai un bacino d'utenza di persone che possono essere interessate a partecipare molto più ampio che non gli 80.000 abitanti totali di una città come Pisa se invece ragioni su il milione più di abitanti della Toscana allora secondo me a quel punto è la possibilità di fare delle opere di censimento dal basso di segnalazione sulle quali noi crediamo perché diciamo sono le nuove dimensioni della cittadinanza attiva queste qua in generale quindi e comunque c'è sensibilità per i beni per i beni culturali bisogna avere una platea sufficientemente ampia per poter almeno partire poi dopo magari diventa più facile ti puoi restringere ma quella è necessaria per partire vabbè ultima cosa c'è la possibilità all'interno di questo di questo web GIS di fare tutta una serie di query di 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 ricerche dalla cronologia alle tipologie di ritrovamenti di insediamenti all'ubicazione insomma qua sono tutti i campi ricercabili per dire quello dei ritrovamenti uno può scegliere che cosa cercare tipo delle tombe incinerazione metterci una datazione vedere poi il risultato il risultato che che ha un'altra come si dice funzione che per ora non abbiamo ma ci sarà nella prossima versione quella di poi collegare direttamente il web GIS al mod cioè dove ci sono i dati aperti ora c'è il contrario per ora c'è dal mod puoi vedere quello che è la geolocalizzazione sul web GIS ma non abbiamo ancora implementato questo sul web GIS quindi sì no no i dati che abbiamo messo nel mod sicuramente verranno link cioè sono già linkati al al web GIS quindi io dal mod vado direttamente al web GIS è soltanto un passaggio tecnico nel senso non abbiamo fatto il collegamento contrario cioè da qui ad andare al dato al dato aperto è soltanto diciamo un passaggio un passaggio tecnico che che dobbiamo fare insomma prossimamente ecco ma è semplicemente inserire un link che in questo momento non c'è perché siamo partiti prima con questo e poi con con il mod e quindi non sapevamo cosa potevamo linkare non ho capito bene cioè nel mod attualmente ci sono meno dati rispetto a quelli che troviamo qui o viceversa scusatemi non ho ben capito sì sì no è giusta è una domanda giusta e sì ci sono meno dati perché poi come vedremo per come funziona il mod e quali sono le basi anche legali e sulle quali funziona l'immissione dei dati aperti è volontaria mentre questi qui sono tutti dati che provengono dagli archivi sono tutti dati che la soprintendenza ci ha permesso di inserire nel webgis una parte dei dati invece archeologici sono sottoposti a un diritto d'autore e quindi poi dopo lo vedremo insomma e quindi non possiamo inserirli nel mod dobbiamo aspettare che chi li ha prodotti decida volontariamente di inserirli mentre diciamo quelli della soprintendenza fondamentalmente quelli che avevano fatto loro nel corso degli anni quelli sono quasi tutti inseriti abbiamo avuto l'ok per una grande quantità di dati prodotti direttamente da loro ma quelli prodotti da liberi professionisti nel corso degli anni sono sottoposti diciamo alla loro scelta la loro libera scelta quindi qua ci sono 700 interventi e nel mod in questo momento abbiamo 112 archivi di cui una parte non sono pisane ma sono di grosseto e di quell'area lì e quindi non sono uno a uno sono purtroppo molti a uno cosa? noi tutti quelli che ci danno i dati anzi visto che siamo in stream chiunque voglia lo può fare come poi si vedrà dopo insomma questo era per spiegare comunque le potenzialità che una visione geografica può avere un campo archeologico che può essere appunto di ricerca di analisi dei dati ma anche non soltanto di ricerca ma anche per la per la cittadinanza semplicemente per avere coscienza e conoscenza di quello che è il proprio sottosuolo di quello che ha sotto i propri sotto i propri piedi ecco una cosa quindi anche legata in generale alla alla cittadinanza no 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 è giusto perché sì 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 no no ma noi ce li mettiamo poi io sono genovese quindi sono al di fuori delle queste l'abbiamo visto come si diceva appunto i dati provengono anche da dati che non sono in formato aperto con una tipologia molto molto variegata appunto di di formati e poi se volete più informazioni le trovate sui link che ci sono sia qui che poi in fondo al cosa qual è il problema dei webgis era un po' la domanda che poneva qualche d'uno prima in streaming da per quanto riguarda mozia cioè questi van va evitata assolutamente l'obsolescenza di questi strumenti che non è tanto un'obsolescenza tecnica che però chiaramente ci può anche essere perché comunque anche in questo campo via via le cose migliorano ma è un'obsolescenza legata fondamentalmente a questi tre parametri cioè all'alimentazione cioè al continuo immettere dati per non rendere lettera morta queste questi webgis e trasformarli diciamo in una in quello che è l'equivalente di un supporto cartaceo diciamo le vecchie carte archeologiche erano fissate alla data di pubblicazione e il webgis se non viene implementato rimane fissato alla data di produzione quindi se noi non riusciremo a immettere nuovi dati comunque sarà una cosa che ha un termine nel 2013 e quindi datato quindi l'alimentazione chiaramente la partecipazione cioè il fatto che utenze diverse possano partecipare all'emissione dei dati una delle delle ipotesi è quella che possono essere direttamente chi produce i dati a inserirli in maniera diretta noi ora abbiamo fatto tutto da noi ma probabilmente la strada la strada giusta è quella di permettere a chi ha fatto lo scavo di inserire con una serie di parametri con dei form guidati di inserire i dati del proprio scavo quindi avere anche correttamente tutta la gestione del processo da parte di chi ha prodotto i dati decidere come presentare i dati che lui stesso ha prodotto e in questo caso qui noi abbiamo fatto tutto noi questa abbiamo fatto per forza abbiamo dovuto fare tutto noi ma la scelta giusta secondo me è appunto una partecipazione che preveda chi produce i dati immette i dati e questo va anche nell'ambito di un'apertura cioè il fatto che questi sistemi non siano visti come una cosa di chi li ha prodotti in questo caso del gruppo del progetto MAPA ma un bene comune anche questi WebGIS quindi che questi dati siano effettivamente poi magari così visibili che può essere un aiuto per chi non ha voglia di scaricarsi i dati e fare chissà quali ricerche ma comunque aperti per chi invece ha voglia di scaricarseli e vederseli in maniera più proficua per il proprio lavoro a chi serve uno strumento del genere a molti diciamo utenti secondo noi uno strumento del genere perché serve per chi innanzitutto prima di tutto per la cittadinanza nel senso che comunque è un modo anche trasparente di dire questi qui ricordiamo all'inizio che è stato un finanziamento pubblico e quindi è giusto che la cittadinanza possa vedere come sono stati spesi questi soldi poi può utilizzare come abbiamo visto i dati presenti come per qualsiasi scopo lui pensi meglio e lui come cittadino e però anche chi si occupa di pianificazione urbana sapere cosa c'è nel sottosuolo è chiaramente uno strumento per evitare scempi o danni nel momento della pianificazione o costi abnormi che possono essere evitati quindi anche un risparmio per chi fa tutela chiaramente per gli stessi motivi sapere quello che c'è gli permette di una maggiore una migliore tutela che può essere fatta anche con l'aiuto dei cittadini come si diceva come si diceva prima la ricerca perché tutti questi dati sono disponibili per tutti e tutte le volte così uno non deve andare nell'archivio a ricercarseli e fare ex novo tutto il lavoro e poi per gli archeologi professionisti perché chiaramente tutta una serie di lavori che sono ormai la legge attribuisce all'archeologo professionista come le valutazioni preventive e possono essere fatte solo avendo a disposizione un gran numero di dati quindi chiunque debba fare un lavoro del genere su Pisa la possibilità semplicemente senza dover andare a Firenze in archivio e cercare tutto ma aver apportato davvero di un click per usare delle espressioni trite ritrite tutti i dati che gli servono e poter fare il proprio lavoro in maniera molto più rapida e anche molto più esauriente e anche per questo motivo che sopra a questi dati c'è una licenza soltanto buy e c'è il permesso di utilizzarli a scopo commerciale perché viceversa uno che dovesse fare una valutazione cioè una relazione utilizzare questi dati valutazione per la quale viene pagato con un non commercial non potrebbe riutilizzarli fondamentalmente potrebbe citarli usare degli scamotage ma non li potrebbe riutilizzare in maniera chiara e immediata invece così chiaramente uno può stamparsi una foto metterla lì e dire io ti dico che qua è meglio non fare uno scavo non fare il parcheggio per questo e questo motivo e lo puoi fare lo puoi fare liberamente qui va bene era il link le cose qua ci sono un po' di chi volesse insomma può trovare delle maggiori informazioni in parte sono dei link in parte rimandano a un'intera pubblicazione questo è un capitolo della prima pubblicazione del progetto nel secondo caso invece la presentazione fatta da Eric Hansa nel convegno e anche nell'ultimo caso diciamo più più tecnico per chi fosse interessato alla parte più più tecnica è sempre all'interno del primo volume poi ci sono c'è un video tratto dalla conferenza che abbiamo fatto a Pisa se qualcuno volesse può vedere queste cose quindi questo per l'open access io avrei finito il video se clicchi il link su un canale youtube sono stati fatti dall'editore delle nostre pubblicazioni che ha fatto dei brevi video il sonoro non è eccezionale ma uno più o meno così quindi io per la parte open access avrei finito quindi se si un canale un canale di